Buongiorno amici, come state? Io mi sono appena svegliata, ho mangiato bene e adesso riposo il mio pancino. Voi come state? Io amici stavo pensando, no? Stavo pensando al polo sud e al polo nord. E allora mi chiedevo, ma perché al polo sud fa più freddo rispetto al polo nord? Perché c'è la neve, i ghiacciai, al polo nord, al polo sud? Cioè il polo sud non dovrebbe far caldo, perché si chiama sud. Vuoi perché nessuno ci abita lì? Potrei andare io a conquistare il polo nord e il polo sud, gatto salsiccia il conquistatore del mondo, del polo sud e del polo nord. Eh? Bella idea, eh? Vi conosceranno in tutti i poli. Non ho mai visto un pinguino. Magari faccio amicizia pure con il pinguini. Sono cattivi i pinguini. I pinguini non mangiano i gatti, vero? Sembrano così carini. Poi porto il pinguino al Milano e ve la faccio vedere pure a voi. Ma i pinguini non mangiano il prosciuttino, vero? Cioè cosa mangiano i pinguini? Potrei dargli un po' delle mie crocchette, quelle lì che stanno scadendo e non le mangio tipo da due anni. Tanto se vivono al polo sud, a Milano fa caldo d'estate o si scioglieranno i pinguini. Eh? 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 Grazie a tutti.